La Iena Luigi Pelazza a Grottamare in un convegno per parlare di usura bancaria e a tal proposito il sindaco di Grottamare Enrico Pergallini ha anticipato che il comune aprirà un ufficio per aiutare i cittadini che dovessero incorrere in casi di usura. Come mai più a Grottamare? Perché io sono il presidente onorario di questa banda di delinquenti che sono l'associazione Diritto e Diritto, no cose serie, sono il presidente onorario di questa associazione e ho sposato la causa, i fini, la moralità, l'etica e quindi loro sono qui a promuovere il primo ufficio sia virtuale che reale che il sindaco mette a disposizione per l'associazione e quindi mi pareva giusto essere qui e dare una sorta di garanzia al cittadino che poi si avvalerà di questi diritti. Si occupa spesso di questi temi, com'è un po' la situazione in Italia in questo periodo? È incasinatissima, dei servizi che abbiamo fatto possiamo stimare che ci sono almeno 50-60% di mutui leasing o altri prestiti che sono a rischio di usura bancaria per cui ci sono tante associazioni in giro per l'Italia che cercano di far valere i diritti della gente. Sta cambiando la giurisprudenza quindi questa è una cosa positiva perché fino a qualche anno fa il giudice rigettava queste cause, oggi grazie a una sentenza di Cassazione sta cambiando il sistema giuridico proprio nei confronti dell'usura bancaria e quindi le persone hanno più possibilità di riavere i propri soldi, i propri denari. Le marche sono, erano considerate un'isola felice? Non so se avete qualche informazione nel dettaglio su questa regione o sul Piceno. Ma io per le marche mi ricordo il servizio che ho fatto da poco su dei cinesi che approfittando anche di imprenditori italiani si fottevano un sacco di soldi di tasse e poi sparivano per l'Oriente in quelle parti là. Grazie.